Comunque, leggo su TV Blog della settimana scorsa. Che sarà fasullo, sì. No, è verissimo, puoi controllare. Con tutto il rispetto per Veronica Pivetti, è surreale che da tre serie a questa parte non ci sia scappata nemmeno una pomiciata con Conticini. E allora è surreale chi ha scritto questo, perché io ho pomiciato con Conticini. Che pomiciato? E quando? L'ho perso anch'io. In scena, naturalmente. A rire? Allora è successo, nella prima serie non è successo. Nella seconda è successo, un bacio. Con la lingua? No! Ah, vabbè, allora è una pomiciata. Ma la lingua, ma che si passa? Ci chiudono. Allora non è una vera pomiciata. Vabbè, insomma, è stata ripresa. Baccio sulle labbra. Vabbè, ma non vale pomiciata. Dai, Veronica, stiamo parlando di roba seria. Dato che c'è una vera tensione tra Camilla e Gaetano. E poi sono anche tutti e due attempatelli, perché non è che stiamo parlando di vero. E quello è bello. Cioè, ragazzi, non so la quarta serie cosa possiamo inventarci. Comunque, complimenti. Grazie. Ma Gaetano un po' ti piace nella realtà? Paolo, anzi? È un mio adorato compagno di lavoro. E come fate a tenere quell'attenzione? Fingete. Siete proprio degli attori. Un attore di linea di Massima. Mamma mia. Quello è meglio se cambia. No, però dicono che quando riesce bene è perché sotto sotto. Non è vero niente. Non è vero. No, con grande rispetto per i due uomini che ho a fianco, che sono anche, insomma, dei caro, bellissimi, meravigliosi, però io ho i miei cani sto a posto. A tu solo coi cani? No, nel senso ai miei cani che mi danno tanto affetto. Io tu solo coi cani non è una frase che tu puoi dire così, capisci? Questo è un blob, sicuro. A tu solo coi cani? No, volevo dire, provi affetto solo ai cani. I miei animali, certo. E quanti ne hai? Due. Due cani? Sì, vabbè. Quindi, insomma, ammucchiateno tu. E vivi con loro. E vivo con loro. E come si chiamano questi cani? Si chiamano Arpo e Nio. E perché non hai un fidanzato e invece hai Arpo e Nio? E beh, perché è meglio. Chiaramente è molto meglio. Cosa vuol dire? Cosa significa questo? Cosa ti danno Arpo e Nio che un fidanzato non ti dà? Tacciano. È una cosa, secondo me, impagabile. Ehm, vabbè. Pari, tu andiamo oltre. Ecco, il successo di questa serie, oltre al fatto che tu sei bravissima, bellissima. No, io avrei voluto essere bellissima nella vita. Ma insomma, mi pare che tu punti tutto su quello. No. E sulle tette. E sulle tette. E chiaro, ci vede da tu. Cioè, ammettilo, Veronica. No, e avrei voluto essere bellissima. Questo è il vero rammarico che ho. Avrei voluto essere passese. Ma non ci passa a credere, ma che delusione. Eh, infatti, è vero essere così. No, ma ero convinta che invece tu fossi consapevole della tua bellezza. No, no, ma che bellezza. Ho sempre fatto le parti d'accesso. Questo è il primo. No, veramente, ridi. Vuole vedere voi. No, mi hanno sempre venuto per fare la scuola. E tu hai due uomini ai tuoi piedi. Infatti, non so perché, non si capisce. Non si sono accorti. No, no, una cosa te la devo dire. Hai vestiti sciallati che porti sempre. Va bene. A rivederci. No, non ti rendono merito perché sei alta, magra, fisico, da modella. Sì, ciao. Però sempre con queste palandrane. Poi in camerino ti faccio vedere il sedere. Ce ne stanno due di modelle. Ma perché ti vestono così? Perché io non amo sottolineare. Ma è il tuo stile. Perché se tu... Understatement. No, perché tu così mi puoi dire. Tu che hai quel fisico da modella. Se invece mi strizzassi, diresti, ma che è successo a quella? Ha messo su quegli otto chili troppo, capisci? Invece così dici, guarda. Così è veramente... Lei si mortifica. Esatto. Vabbè, allora passiamo ad altro. Quando prendevi il te nuda con i tuoi genitori e tua sorella. Ma questa è una leggenda. Visto che preferisci non fare il pupazzo. Parliamo. Parliamo. Ma cioè, questa è una leggenda metropolitana. Ma l'ho letto in un'intervista. Ma belli Fioretti. che l'ha detta... Ma so, ma so bene i ceretti che è successo. Raffaella Brizzi, compagna di Banco delle Medie di Irene, ha detto che prendevate tutti i te nudi per fare... Cosa? Per... Niorgia in famiglia, perché non siamo aperti. No, perché così vi stavate a vostro agio con il vostro corpo. Come si può notare. Dalle palandrane della prova. Dice poi questa la taracana. Quindi non è vera? Ma no, non è vero. Noi siamo persone che si sono sempre visti nudi in famiglia, ma credo che tutti più o meno vedano i genitori nudi, no? Prendevate o no il tè nudi? Ma no, ma il tè poi si prende d'inverno, fa freddo, ma dei deficienti! Con un tè bollente barbellare sul terrazzo nudi. E perché questa signorina si è inventata? Perché ha messo insieme le due cose, che ci piace il tè e che ci vedevamo nudi. Credo che abbia unito, non lo so. Ma quando tu e Irene giravate in tenda per l'Europa, chi rimorchiava di più? Nessuna delle due. Ma lei, lei, lei sicuramente più di me. No, non eravamo due rimorchioni, anche perché eravamo piccole, adesso vorrei dire, insomma, eravamo abbastanza piccole. E io sicuramente non precoce, se posso chiarire. Per cui sicuramente lei, ma lei era bellissima, a parte che è una bella donna, secondo me anche adesso molto bella. Guarda che ti tiro a fare le foto, meglio che... Ma io che sono venuta a fare? No, appunto! Beh, però tu, insomma... Non ti ho fatto il pupazzo, faccio sto pupazzo, perché se no non se ne esce. Io ancora non lo faccio. In realtà lei era anche una bellissima ragazza, molto più bella di me, per cui insomma era quella... Ma poi lei è sempre stata quella bella, brava, io un po' quella mal riuscita. Ma sei sicura? Sì, sì, ma sì. No, ma adesso poi, perché i miei genitori sono sempre stati dei miei molto carini, eccetera, eccetera, però veramente quella brava, sei tu che sei passata per quella brava, non direi... No, ma che dici? Ma tu non sei informata. No, no, sono informata. Ma no, vabbè, poi facciamo due mestieri diversi. Guarda che sono informata. Lo so, quindi devo stare attento a chi dico. No, però facciamo due mestieri diversi, lei in sua era bravissima, io nel mio. No, sto un po' scavando, perché mi sa che c'hai il complesso della sorella, grande. No, no, guarda, io ti giuro. Perché non è vero che è più bella di te, Irene, dai, siete carine tutte e due. Dobbiamo litigare, siamo venuti qui per litigare. No, però, no, diciamo, allora, mia mamma, che mi sta guardando in questo momento, glielo voglio dire, mi fecero una foto, più d'una, perché mio papà è un bravissimo fotografo, però mi fecero le foto nel periodo sbagliato, cioè 14, 15 e 16 anni, dove io ero veramente un cesso, ma credimi, ma veramente un cesso. sbilenca, i denti brutti, la fronte in vista, che non si fa mai, nel mio caso, brutta. E mia mamma, guardando quello ha fatto, allora, disse, oh, sembri un po' Mick Jagger. Tu capisci che non potessi fare tante cose. Adesso, perché lei adesso lo deve sapere che io me lo ricordo ancora. E quindi, insomma, era vero? Il problema è che era vero. È un peccato. Eh, ma era vero. È un peccato. E quindi la mia mamma mi ha sempre detto la verità. E quindi adesso che mi ci si è detto... Diceva Irene che era bella e tu che sembravi Mick Jagger. No, no, a me mi guarda, mi hanno sempre adorato e sempre esaltato, però io ero veramente un cesso. No, quando è così. Ma no, è vero, va bene, parliamo dopo, se no. Nell'adolescenza ero veramente orrenda, poi, insomma, qualcosa si è aggiustato, però... ...